Come hai detto, siamo una volta rappresentanza, una rappresentanza radicata sul territorio, fa anni, ci tengo a dirlo anche delle esperienze necessarie per controbattere a quella che è la politica, chiamiamola tra virgolette, di Gallimberti e quindi noi crediamo che non siamo un valore aggiunto noi di Fratelli d'Italia, ma siamo un valore sostanziale per questa coalizione che dovrebbe in qualche modo consentire anche un'ottima amministrazione se gli elettori ci daranno praticamente non molta fiducia perché abbiamo le carte in regola per giocare il nostro ruolo. Grazie.